A mio treno facciamo un bel casino, uno, due, tre! Gravioso! Allora volevo dire che la mia musica, la mia performance a tutti voi che siete più sotto, a supportare gli artisti e a vedere questo show ancora più bello poi dacci tutto come ho già annunciato, preannunciato diritto questo concetto a mia mamma che si è sbattuta in famiglia, a prenderli su come sono gli anni e i padri che mi ha tirato su come sono, trasmettendomi degli ideali a prenderli il tuo prossimo presto, vai DJ!